Sono oltre 1.500 le richieste di immagini di videosorveglianza alla Polizia Locale di Venezia. È uno dei dati significativi emersi nel corso della presentazione del rapporto annuale del corpo, un sistema di telecamere che sarà ulteriormente potenziato. Attualmente abbiamo già 700 telecamere collegate direttamente alla centrale operativa, le quali ci permettono di avere in immediate le immagini, oltre al fatto importantissimo che servono per le indagini non solo della Polizia Locale ma a disposizione di tutte le forze dell'ordine. I reati che sono stati commessi nel territorio, anche quelli gravi, hanno dato esiti positivi al 100% sull'identificazione dei soggetti, dei presunti colpevoli. Nel 2023 la Polizia Locale ha arrestato 75 persone e denunciate 1.449. L'ambito di azione più significativo è quello dello spaccio, con l'arresto di 44 pusher e 95 denunce. Abbiamo infatti partecipato alle attività, ai servizi di sicurezza e ordine pubblico, sono 665 nell'anno 2023, di cui 108 siamo stati partecipi attivi alle operazioni alto impatto che sono state partite nel 2023 dal Ministro dell'Interno, Piantedosi, che ha chiesto maggior sicurezza, maggiori controlli di presidio, che vadano ad aggiungersi anche i 47 nuovi militari che sono stati potenziati nel nostro territorio. Oltre 100 le denunce per furto, 14 per rapina, 89 per guida in stato di ebrezza. Sul fronte stradale rilevati oltre 1.500 incidenti, di cui 8 mortali. Significative anche le attività di controllo della navigazione nei canali, che hanno portato a 1.624 sanzioni nei confronti dei conducenti di barche. Intensificati anche i controlli con tele laser nelle vie d'acqua, un'attività intensa di cui per molti aspetti Venezia è capofila. Io dico il sistema Venezia perché, per fortuna, lo Stato ha sempre emesso degli ottimi dirigenti delle diverse forze di polizia, dai questori ai comandanti provinciali dell'arma della Guardia di Finanza, con cui c'è una collaborazione piena e sincera. Dopodiché noi siamo innovativi, perché il corpo di Venezia ha introdotto tutta una serie di cose che oggi sono diventate patrimonio comune delle polizie locali di tutta Italia.